Tre punti importanti, ma sicuramente una partita sofferta. Cos'è mancato al Milan stasera? Partita sofferta che però ci permette di crescere, perché da queste partite che vanno a fare le passi avanti nel consideramento di un gruppo nuovo, si è spinta un po' la luce dopo il primo quarto d'ora, dopo abbiamo fatto bene nelle due fasi, ci è sembrato tutto troppo facile, abbiamo rischiato anche più del dovuto, però siamo stati bravi nella reazione, credo che questa sia la cosa più importante. Era fondamentale chiunere con un percorso positivo questo miniciclo, che poi si entra nel vivo dal Pinto delle Nazionali, sarà ancora più importante continuare su questa strada, quando si giocherà una volta ogni tre giorni, ci sarà da recuperare le corce, sarà importante il gruppo nella sua totalità e nella sua intensità, quindi era importante, è un percorso che abbiamo cominciato, che prevede una crescita rapida per poter competere in campionato, in Europa e in Coppa Italia. Grazie.